wow che bel posto giù per la strada ma sembra agrab a sto posto questo è il mio regno si era molto meglio prima della mia partenza sembra che in città stia succedendo qualcosa io vado di qua tu da quella parte vai ma guarda comincia già a comandare ma quello sono io posso andare allora fammi sempre vedere nelle parti iniziali c'è sempre qualcosa di nascosto secondo me adesso pestano il pupazzo ah no anche il pupazzo festa a me eh porca troia volevo fargli il colpo di grazie almeno contro il pupazzone volevo vedere cosa succedeva tazza e regalo due incredibilmente infligi cinque colpi alta società raccogli tutti i biglietti per il teatro orbita ferra e lancia tre nemici che senso a questo ovviamente preso ok calmi tutti una cosa che non ho mai provato è se c'è un tempo limite per cui posso tenerli in mano tipo guardalo la e niente è morto contro l'albero poverino comunque questo mi ricorda anche molto il livello del deserto di persona 5 questo posto ma incredibilmente è nato prima questo gioco ma posso spostarlo no ok incredibilmente è nato prima questo gioco di persona 5 quindi magari hanno detto magari nessuno conosce sto gioco di merda copriamo un po copriamo un po lo stile magari no è però allora no quadrato dai ma porca sti lancia mele delle mie balle si è bloccato nell'animazione sti lancia mele delle mie balle allora è palese che vorrebbero che io abbassassi la leva per far abbassare il tendone così il tipo lo puoi pestare il disegno così il tipo lo puoi pestare no era un biglietto però non ha senso che io abbassi la cosa lo pesto poi la rialzo piuttosto faccio così aspetta lei no è niente non vedevo dove dove doveva arrivare mi ricorda anche un livello di crash bandicoot questo aspetta ecco fanno becca di questo ma una triangolata a ok pensavo facesse un su e niente sono sceso per prendere la polvere ha fatto bisogno di facessi un suplex io mi ricorda anche un livello di crash bandicoot nel deserto questo mi ricorda un po tante cose questo livello non posso sorveglio il parapetto signore da caso di attacco di gargoyle signore ah beh certo non esistono i cargoyle certo come no pericoloso il gargoyle meglio che qualcuno stia di guardia comunque buona fortuna da buona fortuna aia allora aspetta un attimo ecco fatto vieni qua 1 2 e tara e aspetta preso ah posso distruggere gli scudi anche lanciandoti la roba ma allora è semplice becca questo preso al volo missione completata dai via madonna mia io ho spaccato la spina dorsale sto povero cristo allora qui qui e ah no tu non vieni hai scappato addirittura è impazzito aia ma porca allora aspetta un attimo siete in troppo qui aia ecco fatto prendi l'albero e vai via ecco fatto perfetto grazie dei soldini vieni ma quanti soldi va bene che a parte che sono tipo tre monete luna eh vieni dai che se no non posso rompertire lo scudo se non ti muovi e niente è rimbambito il tipo aia e dai e ma non si muove è scemo e niente volevo fargli il colpo di grazia ma cosa ho sbagliato io no e porca miseria quando inizia una combo sherek la deve portare a termine per forza però non sto trovando le tazze saranno anche due ma non le sto trovando e anche i biglietti ne abbiamo trovato uno quello era un biglietto no è una chiave dov'è quella porta abbiamo trovato una tazza un po sono sorpreso ammetto che non ci credevo ammetto che non credevo sarebbe successo però abbiamo trovato un altro biglietto perfetto meno male che siamo tornati indietro allora e quindi la porta era questa qua ok ho sentito eh certo come no vieni qui che voglio vedere la mosso finale su di te mi ricorda molto la finisher o meglio la finisher una delle mosse che facevano in monsters and co l'isola dello spavento dio mio quel gioco era terribile ma sapete che un giorno lo porterò fermo idiota quello è un attore non un orco e adesso viene con me lo spettacolo inizia tra cinque minuti a me sembra un orco e azzurro ha detto di non lasciar passare nessun orco è un attore guarda indossa una maschera di gomma che non lo vedi orca troia non è una maschera o si no nooo mi ha ricordato molto facciamoci conoscere questa roba fermo aia e dai vai via da qua e por- oh ma mi lasci un attimo in pace hai rotto il ca eh porca puttana tu la tua spada di merda volevo farti la combo ma anche quella mi fai fare posso romperlo no ovviamente qua c'è qualcosa no io me la ricordo molto molto lontano non era agraba una volta c'aveva sì le sue viuzze c'aveva le strade ma sembrava lincoln boulevard non sembrava agraba una volta ecco qua altro colpo di grazia missione completata così possiamo smetterla di cercare di fare i colpi di grazia ora ci mancano altri tre biglietti e una sola tazza il non morire nel livello neanche lo conto alla fine ecco qua un biglietto ce ne mancano solo due però mi sembra che ci sia poca roba in giro cioè nel senso di solito sono ben messi ma li vedi e no non l'avevo caricato abbastanza vieni qua ecco uno ecco due perfetto vieni qui perfetto uno due tre e colpo di grazia che testata magistrale posso buttarmi nel pozzo no ma posso attivarlo biglietto o tazza scatola d'oro interessante comunque cosa da nascondere bravi 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 ammetto che questo era un bel nascondiglio qua effettivamente un biglietto e una tazza ce la potevano nascondere non abbiamo visto altri pozzi vero? non abbiamo visto altri pozzi che magari erano nascosti vero? vieni qui eh no è troppo tardi voglio vedere ancora la finiscia su sto tizio bravi mi sono spaventato questo mi è sporco oh poverino vieni qui ecco fatto ecco fatto voglio buttarlo di sotto no è no ormai è troppo tardi voglio buttarlo giù nel fiume ma vabbè mi accoltengo anche delle finisher grazie la lancia guarda la lancia lascia tra l'altro guarda cosa stava facendo ah posso saltare qui aia ma che dolore uè là si muovono ok va bene aspetta no vuoi vedere che sopra uno di questi porca miseria aspetta eh c'era il disegno no e dai posso rialzarlo eh no eh vabbè dai non importa il disegno è il meno del meno oh no sto girando il cannone ecco ti pareva ma dai ma a parte ah ok si l'ha girato prima che mi spara nella schiena grazie di tutte le tazze vabbè peccato per il disegno ma è appunto come dicevo il meno del meno il disegno quindi lì finisce il livello secondo me lì finisce il livello e non abbiamo trovato altri biglietti mi sembra strano mi sembra strano però vabbè ormai ci ho fatto l'abitudine in sto gioco che le cose si sono nascoste ma imposti veramente che dici come è possibile che io non ci abbia pensato o come è possibile che sia là vieni qui vieni toccolo lo scudo dai perfetto ora possiamo combattere ad armi pari e piena forza piena potenza ecco fatto aspetta eccolo lì un biglietto come ha fatto a non vederlo vabbè ce ne manca uno ormai è andato disperso purtroppo non è proprio così il gioco cioè il film e beh certo no no il gatto e per i tuoi amici saranno guai oh no oh no semplice hai una parte importante nella mia produzione la tua fine è il mio inizio eh certo anzi il mio finale secondo me la fine è azzurro contro Artù lascialo in pace guardie incatenate questa mostruosità ma che stronzo sto gioco è terribile sotto tanti e troppi punti di vista vabbè peccato per il biglietto per il disegno ma sti cacchi mi avevate detto che il prossimo è l'ultimo livello quindi speriamo grazie a tutti